Il rapporto sull'andamento del manufatturiero abruzzese nell'anno 2021 è stato presentato oggi nella sede di Confindustria, realizzato in collaborazione da Crese e Confindustria Abruzzo con la presenza forte della Camera di Commercio del Gran Sasso. Il trend dell'industria regionale è cresciuto nel 2021, tra maggio e settembre 2022, e l'indagine ha coinvolto poi un centinaio di imprese con almeno 10 addetti. Tre i fattori importanti tenuti in considerazione nell'analisi, digitalizzazione, smart working e l'economia circolare. Per il primo, dai dati emerge che le imprese che si sono evoluti hanno avuto benefici sul tema dello smart working. In Abruzzo, invece, è solo un'impresa su 20, lo attivato e strutturato. Dal focus sull'economia circolare emergono dati interessanti sulle quote di riciclo degli scarti, di approvvigionamento di materie prime e seconde, di uso di forza motrice pulita. I dati ci dicono comunque che l'Abruzzo tiene sulla crescita manifatturiera, un po' in trend con i dati nazionali. C'è qualche gap, qualche punto da recuperare, quindi questo deve essere comunque monitorato per l'appunto e noi poi come Camera di Commercio tenderemo a colmare per quanto possibile tutti i gap, tutti i punti sui quali dobbiamo lavorare per far sì che le nostre aziende continuino a crescere. Rispetto al 2020 il manufatturiero ha visto il più 5,7% di produzione, il più 6,6% di fatturato, mentre per l'occupazione si segna almeno 0,1%. Ottima come sempre la performance del settore chimico-sanitario, anche l'alimentare è cresciuto, buono il risultato dell'abbigliamento, meno brillanti i risultati delle elettromeccaniche ed elettronico, ma comunque buoni. L'unico settore in difficoltà è quello della lavorazione dei minerali, non metalliferi. Le medie imprese sono quelle con il miglior andamento, ma anche le piccole hanno avuto un interessante incremento. Abbiamo confermato e evidenziato comunque un trend di crescita, anche se leggermente al di sotto della media nazionale. Ulteriore plus che abbiamo rilevato è quello relativo alle medie imprese, ovvero quelle che hanno da 50 a 250 dipendenti, che hanno mostrato una strutturazione dal punto di vista digitale superiore alle piccole, ma pur essendo medie hanno dimostrato una grande flessibilità rispetto alle grandi aziende e pertanto questo ha consentito loro in questo contesto attuale una maggiore competitività e un trend addirittura superiore.